Apriamo Brescia in un periodo Il periodo è molto importante e cruciale con delle sfide che sono quelle della transizione energetica, del digitale, del PNRR e delle criticità molto rilevanti. Quindi è ancora più importante essere vicini alle imprese e vicini alle amministrazioni. Il PNRR è una grande spinta, ma è una spinta che non deve rallentare quando l'effetto delle risorse che l'Unione Europea ha postato sull'Italia si ridurranno. Anzi, lì si giocherà una partita decisiva di Cassa Depositi e Prestiti. Gli investimenti promossi insieme possono incentivare il territorio a fare il salto di qualità che porta il territorio di Brescia tra le principali realtà produttive italiane. Questa possibilità di portare le competenze così vicine alle nostre imprese ci consentirà di migliorare le performance. La Lombardia viene ricordata come il motore del sistema economico italiano. In realtà la Lombardia è il motore del sistema economico europeo, tanto che la Commissione Europea ha definito questa regione e l'ha collocata nella lista delle regioni Strong Innovator. Considerateci un vostro partner a fianco degli enti locali e delle imprese, consapevoli tutti delle sfide che abbiamo di fronte, ma anche del fatto che unendo le forze, mettendo al servizio le competenze che Cassa Depositi e Prestiti ha, queste sfide possono essere vinte. Grazie a tutti.